La regia ci ha mostrato che l'atleta francese Austin aveva da ridire con l'atleta indiana Rea a suo dire di averla trattenuta. Siamo ora con la partenza, questa prima batteria di semifinale maschile con gli atleti, l'atleta ora colombiano che si porta in testa Vasquez davanti a Park, poi Gui Marsh, poi Kim. Ancora Vasquez in testa davanti a Gui Marsh, Vasquez, Gui Marsh, Kim, Park, ora all'interno bella la curva del francese ma va a chiudere Vasquez. Passano i primi due di ogni batteria quindi nessun problema per loro. Passano per gli Stati Uniti in una prima posizione e la Germania in una seconda, la Corea e la Venezuela, due raggiunti per andare. Uniti Stati Uniti con il Maldonso e la Germania in una seconda posizione. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.